Grazie Siamo appena usciti dall'aver presentato una denuncia contro il signor Giorgio Napolitano, il signor Mario Monti, il signor Mario Draghi e compagnia cantante. Per una serie di reati contro le istituzioni e contro la Costituzione che determina il comportamento nei confronti di queste istituzioni e che tutti insieme ravvisano un reato che è stato derubricato negli ultimi anni ma che comunque è stato derubricato quello specifico che era appunto di... Non siamo stati noi i primi a parlare di colpo di Stato, quindi il primo a parlare di colpo di Stato è stato l'ononevole Scilipotti, lo dobbiamo dire. Anche, anche. Nella sua intervento alla Camera in quest'anno è stato anche ripetuto l'altro ieri da Bernardo, anche da Maurizio Ferrara. Brevissimo, l'hanno detto ma noi l'abbiamo fatto. Certamente, noi abbiamo fatto la denuncia. Quindi l'alto tradimento è un reato derubricato ma esistono tutti gli altri dei reati contro lo Stato, contro il governo e contro le istituzioni. Quindi hai le denunciati per l'alto tradimento? Non per l'alto tradimento perché questo reato non esiste più nel Codice Penale, però per tutti gli altri reati previsti nel Codice Penale che ravvisano comunque poi conseguentemente il reato di alto tradimento. Per farlo capire meglio, ad esempio, si può fare un rimpasto di governo, è ammesso il rimpasto governativo, ma nell'ambito di una legislatura che è quella che deve essere, cioè nell'ambito di un governo che è stato fatto sulla base delle elezioni dei cittadini. Regolarmente detto. Allora, un rimpasto, un cambiamento di maggioranza, un cambiamento, va sempre nell'ambito del quinquennio all'interno del quale esiste una legislatura. Al di fuori di questo è comunque un colpo di Stato. Può essere fatto da gente armata o gente disarmata. A questo punto è gente apparentemente disarmata ma in mano l'arma del ricatto come l'hanno tutti gli usurai. Sì, esattamente. Le banche hanno fatto esattamente il gioco loro, hanno preso per le valle il signor Berlusconi che non poteva dimettersi. In tre giorni circa gli hanno fatto perdere 350 milioni di euro di valore e di capitalizzazione delle sue aziende, per cui per non perdere completamente tutte le aziende e tutto il valore di tutte le aziende ha dovuto divenire dei compromessi a dei miei umili consigli. E quindi dimostrando sostanzialmente la sua vigliaccheria perché noi davanti a lui abbiamo l'esempio di Gheddafi che si è comportato puramente tutto il mondo, si è comportato fino a un uomo d'onore, da 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 un uomo d'onore. Non è in questo contesto specificamente, ma li abbiamo denunciati infinite volte in tantissime altre denunce per una marea di altri reati. E adesso compartecipano anche loro come compagnia a seguire. Quindi il governo di Monti è illegittimo? Assolutamente illegittimo, non solo illegittimo, ma anche incostituzionale e anche e soprattutto delinquenziale. È un sistema messo in atto da un processo che si è instaurato e incardinato nel 1981 e diluito nel tempo senza che nessuno se ne accorgesse e con la compiacenza di chi aveva l'ottico del controllo ha preso gradualmente possesso all'interno dei gangli vitali delle istituzioni e di tutti i partiti e di tutti i movimenti ideologici, sindacali e culturali. Ma va tenuto presente da questo punto di vista un altro concetto importantissimo. L'approvazione da parte del Parlamento italiano nei confronti di questo governo è del tutto irrilevante. Perché non è detto che questi devono... Allora, io domani chiamo il cavallo perché c'era un scrittore critico che di recente ha detto appunto il cavallo di Caligoro, ma il cavallo di Caligoro è molto meglio di questi. Il Caligoro aveva contro di sé il Senato e giustamente aveva contro di sé, tanto è vero che alla fine l'hanno pure ammazzato lui assieme alla figlia, giovanetta, con un colpo di Stato, e a un certo punto per offendere il Senato giustamente ha nominato il suo cavallo senatore. E qui io ritengo un atto di grande coraggio e di grande dignità. Ti nomino te, cavallo, perché voi i senatori... Sì, sì, molto più onesto e molto meglio dei senatori che erano degli asili da quel punto di vista. Per legge, in un sistema di diritto in cui ogni cittadino per legge ha l'obbligo di tentare di rimuovere il motivo del reato o di non far compiere il reato, come prescrive il codice penale, questi signori, anche dell'opposizione o addirittura dei burlesconiani che sono stati defenestrati ieri, non hanno avuto quel briciolo di amor patrio e di senso delle istituzioni, di età personale, è un onore proprio personale per dire una sola parola e per cercare di ovviare a questo tentativo, a questo atto incostituzionale dell'alto tradimento che è stato compiuto nei confronti delle istituzioni. Quindi questo a dire che non solo siamo ormai stati conquistati dalle banche, e dai uomini controllati direttamente o che controllano direttamente le banche, ma addirittura tutti quelli che avrebbero dovuto per ruolo, per istituzione, per antagonismo opporsi a questa situazione che si è venuta a creare, semplicemente se ne sono strapportuti e quindi hanno permesso che questo accadesse e quindi anche loro sono compartesiti, anche loro fanno parte del regime massonico, plutocratico, democristiano e quant'altro. Grazie per la visione!